I ragazzi hanno detto appunto nelle interviste che sono stati emozionati, colpiti dai fatti, anche il luogo che abbiamo visitato oggi è un luogo che è atroce per le cose che sono accadute. Nonostante questo però i ragazzi hanno tutti detto cose particolari per quanto riguarda il percorso e l'approfondimento dello studio sulle fonti fotografiche, imparare a usare dei metodi per la ricerca storica che non conoscevano. Sì, forse all'inizio loro rimangono un po' spiazzati perché quello che li attira di più inevitabilmente è quello di poter discutere, di poter parlare tra di loro, di confrontarsi. Però noi diamo naturalmente molto spazio al dialogo e alla libera espressione, ma insistiamo molto sull'approfondimento storico. Loro non sono abituati, anche perché la storia si studia così con programmi sempre più compressi a scuola, non sono abituati ad approfondire e soprattutto non sono abituati a studiare analizzando i documenti storici, quindi le fonti, le fotografie. E abbiamo visto che anche quando li portiamo in posti come questo, qui siamo a Hardtime dove facevano l'eutanasia, cioè dove uccidevano i malati, i prigionieri del campo di Mauthausen, eccetera, abbiamo visto che anche proprio avvicinando i documentari dell'epoca, a delle biografie, a delle testimonianze di carnefici, loro hanno sviluppato delle domande proprio sui contenuti. Cioè, noi non vogliamo trasformarli, per essere molto chiari, in tanti piccoli esperti di storia. Certo, questo naturalmente è un obiettivo, anche questo molto positivo, però noi vogliamo che ci sia una maggiore conoscenza della storia, perché solo se c'è una conoscenza della storia approfondita è possibile anche poi esplorare altri collegamenti con l'attualità e provare anche a interrogarsi sulle nostre scelte di oggi. Ma se non partiamo da una conoscenza storica rigorosa, si rischia poi di parlare un po' troppo genericamente del bene, del male, del buono, del cattivo. Noi non dividiamo la storia in buoni e cattivi, noi dividiamo la storia in responsabilità e in scelte. Chiaramente è una storia fatta di carnefici, fatta di vittime, ma nel mezzo c'è la grande categoria di tutti coloro che sono stati spettatori, sono stati testimoni, alcuni hanno deciso di salvare, di protestare, ma la maggioranza è stata indifferente. E in questa indifferenza della maggioranza sta la nostra domanda di oggi, io oggi che tipo di persona voglio diventare? Ed è una domanda che loro si pongono da soli, quindi è molto bello quando loro da soli arrivano veramente all'urgenza, ma io, io oggi che cosa posso fare? E quindi quando questo succede vuol dire che il progetto ancora una volta ha realizzato il suo piccolo miracolo di accendere una scintilla nella testa e nel cuore di questi giovani. C'è assolutamente bisogno di continuare, anche se magari qualcuno può pensare, ma oggi sono argomenti conosciuti, ma oggi in fondo i campi di concentramento ci sono già stati, perché quando vanno in gita magari abbinano, che ne so, a Vienna, anche la visita a Mauthausen, vanno a Prague, poi vanno a Theresien, ma non è la stessa cosa, cioè quello che noi stiamo facendo è un'altra cosa, è un percorso di crescita per accompagnare questi ragazzi diciottenni, che poi diventano adulti e faranno la loro vita, in un percorso in cui attraverso lo studio della storia loro possano veramente capire qual è il senso della responsabilità individuale nella vita di tutti i giorni. E quindi non genericamente, non facciamo un catechismo laico, ma cerchiamo appunto di sensibilizzarvi parlando di storie di uomini e donne in quel periodo tragico che è stata la dittatura nazista, la dittatura fascista, in cui loro possono veramente trovare tante domande e spesso tornano a casa con tante risposte, ma anche con delle domande per le quali devono loro stessi poi cercare delle risposte adeguate. Quindi anche questa è una sfida per loro, perché li spinge a rimanere sempre attivi, sempre vigili e sempre intelligenti nell'avvicinarsi anche alle informazioni che ricevono tutti i giorni.